Musica Polla a casa o di buona sanità grazie all'equipe del dottor Di Palma Pericistectomia epatica perichino coccosi Scommesse sportive, record di puntate a Salerno e provincia Sala Consilina, sabato incontro verso il 21 marzo Giornata di sensibilizzazione e riflessione sul tema della criminalità organizzata Promosso dal Forum dei Giovani di Sala Consilina Sant'Arsenio, Banca Montepruno, il 18 marzo proiezione del film Iners sull'emigrazione Prima categoria, frena la Gregoriana e Real Palomonte sogna l'aggancio Buongiorno e bentrovati al nostro telegiornale Apriamo quest'oggi con la sanità, con la buona sanità Aveva contrattola e chinococcosi, una malattia parassitaria trasmessa all'uomo dagli animali Che colpisce prevalentemente il fegato, particolarmente diffusa nell'Italia meridionale Lo scorso febbraio il paziente giunge all'ospedale di Polla avvertendo forti dolori addominali Ricoverato presso l'unità operativa di chirurgia diretta dal dottor Di Palma E' stato sottoposto ad un intervento chirurgico di pericistectomia epatica Con una delicata operazione che ha portato il dottor Di Palma e la sua equip a rimuovere voluminose cisti Un intervento particolarmente delicato e riuscito perfettamente Prima di poter dichiarare il paziente perfettamente guarito e approvare quindi le dimissioni ospedaliere Il dottor Di Palma ha richiesto un esame specifico e realizzabile solo con adeguate attrezzature presso altro ospedale Ricevuto l'esito dell'esame, l'uomo è stato dimesso Ma ascoltiamo l'intervista al dottor Di Palma Il paziente era affetto da echinococcosi epatica La malattia echinococcica si trasmette all'uomo saltuariamente dal cane Attraverso le feci che possono inquinare legumi, ortaggi Oppure anche attraverso la saliva del cane Se c'è una promiscuità notevole In genere queste cisti crescono in media di un centimetro l'anno Il paziente aveva una cisti di circa 10 centimetri Con numerose cisti figli all'interno Aveva una sintomatologia compressiva sullo stomaco e sul pancreas Che aveva causato dolore Per cui è venuta la nostra osservazione E in questi casi c'è l'indicazione all'intervento chirurgico immediato Perché ci sono due complicanze gravi Che possono avvenire in portatori delle cisti di echinococco del fegato La prima è la rottura in addome con uno shock anafilattico che può essere anche mortale La seconda è la suppurazione con formazione di ascessi epatici E quindi uno stato settico che può portare sempre a morte il paziente Il signore con la malattia chinococcica è stato operato il 15 febbraio E dopo una settimana di degenza come da protocollo in questi casi Cioè in tutti gli interventi del fegato Specialmente quelli un po' più delicati E specialmente nelle cisti e chinococci che possono avere comunicazione con le vie biliari È previsto come da protocollo internazionale fare una risonanza magnetica Di controllo prima della dimissione Purtroppo la risonanza qui a Polla non c'è Per cui il paziente è transitato per 48 ore in un altro ospedale per effettuare l'indagine È tornato a casa, operato il 15 febbraio, è tornato a casa il 28 E sta in ottima salute Dovrà solo fare dei controlli periodici E assumere un farmaco antielmintico Per cercare di evitare la recidiva che è molto frequente in questi casi Il paziente è stato quindi seguito dal primo all'ultimo passaggio Anche dall'ospedale di Polla, dal reparto di chirurgia Anche quando è transitato dall'altro ospedale Perché voi avevate la necessità di conoscere bene le sue state, giusto? Dovevamo conoscere lo stato delle vie biliari solo con la risonanza Non con la TAC La risonanza magnetica dell'addome è fondamentale in questi casi Quindi lui è transitato per 48 ore nell'altro non so come Per effettuare l'indagine Peraltro la risonanza ha dato esito positivo Quindi il paziente stava bene L'intervento era riuscito perfettamente, giusto? Io sono molto contento perché si parla sempre di malasanità Ho aspettato un mese per pubblicizzare questa cosa Ma perché mi fa piacere parlare bene dell'ospedale di Polla E voglio dire, ultimamente sono arrivati due chirurghi nella mia divisione Stiamo al completo come personale Possiamo assicurare nelle 24 ore Sia per le emergenze che per gli interventi di elezione Un'assistenza quando migliore possibile Voglio solo ricordare che in due anni Abbiamo effettuato quasi 1400 interventi chirurgici Più di 100 sono gli interventi in laparoscopia Sia per le colecisti che per le appendici Abbiamo effettuato tre interventi di resezione Di un tumore allo stomaco con laparoscopia E più attività di ambulatoriale Anche vascolare Insomma è un reparto che funziona Ma migliorerà sicuramente perché ripeto Adesso stiamo come personale al completo E quindi possiamo assicurare Effettivamente i livelli essenziali di assistenza In modo quanto migliore possibile Insomma E rimaniamo sulla sanità Anche il comitato curo interviene In merito alla situazione del reparto di oculistica Dell'ospedale di Polla E chiede un incontro al direttore generale Dell'ASL di Salerno Antonio Giordano Per discutere della vicenda Ma anche della generale situazione Che le strutture sanitarie valdianesi stanno vivendo La vicenda del reparto di oculistica Del Luigi Curto di Polla Continua a tenere banco Portandosi dietro una discussione più profonda Legata a tutta una serie di criticità Che le strutture sanitarie del Vallo di Diano Vivono da anni Ad intervenire nel merito E tra gli altri il comitato curo Che attraverso un comunicato stampa Chiede al direttore generale dell'ASL di Salerno Un incontro urgente Per conoscere gli impegni concreti Che intende assumere Sia rispetto alla struttura complessa di oculistica Sia rispetto alle risorse Destinate alle strutture sanitarie di Polla E Sant'Arsenio Sia alla riconferma dei servizi minimi necessari Al funzionamento ottimale E della sanità del territorio E lungo e dettagliato il comunicato stampa In cui si mette in evidenza innanzitutto La delibera numero 137 Del 22 febbraio scorso Che scrivono E di forme dall'atto aziendale Licenziato dal commissario Polimeni Modifica l'individuazione Dell'unità operativa di oculistica Con una semplice comunicazione Della direzione generale Alla struttura commissariale In data 16 gennaio 2017 Senza nessun tipo di coinvolgimento Dei rappresentanti istituzionali del territorio E delle organizzazioni sindacali Viene poi fatto riferimento Sia all'operazione furtiva Con la quale è sparito Il servizio psichiatrico Di diagnosi e cura Dalla struttura di Sant'Arsenio Senza creare il servizio corrispondente Presso l'ospedale di Polla Che ha la delibera numero 179 Del 28 febbraio scorso In cui si approva il bilancio aziendale Che di fatto non consente di comprendere Con quali fondi si darà seguito Alle promesse del piano regionale Di programmazione della rete ospedaliera E quindi quale sarà in realtà Il futuro del nosocomio di Sant'Arsenio Destinato in teoria A diventare struttura territoriale E ad ospitare un ospedale di comunità E l'unità complessa di cure primarie L'incapacità di intercettare finanziamenti Nonostante i progetti presenti A volte redatti a spese dei comuni interessati Secondo il Comitato Curo È confermata dal riparto dei fondi Per gli investimenti sanitari Ex articolo 20 della legge 67 dell'88 In cui nessuno dei progetti riguardanti Questo territorio È stato candidato a finanziamento Tale atteggiamento Continua il Comitato Denota la scarsissima conoscenza Dei territori E la scarsissima attenzione Nei confronti delle popolazioni Delle aree interne del Vallo di Viano A favore del territorio Di Vallo della Lucania Della Piana del Sele Nonché dell'agronocerino sarnese Purtroppo nessuna direzione Nessuna struttura dell'ASL È stata mai in grado di fornire Una vera analisi del fabbisogno sanitario Della popolazione Afferente ai territori distrettuali Su cui indirizzare efficacemente Gli interventi e le prestazioni Senza logiche politiche Ma con la sola logica Di soddisfare la domanda di salute Della popolazione Al Presidente della Regione Campania Che conclude il Comitato Nelle sue narrazioni mediatiche Parla di rivoluzione Della sanità in Campania Chiediamo come mai A distanza di due anni Dalla sua elezione Nonostante sia salernitano Non abbia mai voluto rendersi conto Dell'effettiva situazione Di questo territorio Che continua a rimanere Terra di conquista elettorale E consenso politico Utilizzato poi su altri tavoli Per altri territori A danno del Vallo di Viano In cui si materializza da tempo Il taglio indiscriminato Di servizi E l'impoverimento Sia quantitativo Che qualitativo Delle strutture sanitarie La provincia di Salerno È al quarto posto Dopo Napoli Roma e Milano Per le scommesse Su eventi sportivi In ascesa Anche il numero Di pensionati giocatori Vediamo Un dato Non certo confortante Per Salerno e provincia Che secondo i dati Raccolti Dai monopoli di Stato Ed elaborati Dall'agenzia giornalistica Specializzata In materia di giochi Si colloca Al quarto posto Dopo Napoli Roma e Milano Per scommesse Su eventi sportivi Nei primi due mesi del 2017 In totale Sono stati scommessi In Italia 739,3 milioni di euro Di cui 640,6 Sono tornati In vinciti Ai giocatori Napoli È stata la città Dove si è scommesso Di più Seguita da Roma E Milano Quarta Salerno Con 29,5 milioni Di euro Di raccolta In questo particolare Conteggio Non sono considerati I dati relativi Alle scommesse virtuali Che fanno riferimento Ad un'altra classifica Dove Salerno Si tiene lontana Dalle prime posizioni In generale Come evidenziano Da Formez Sulla rivista economica Del Mezzogiorno L'aumento delle scommesse Cammina di pari passo Con l'impoverimento Delle famiglie Con l'Italia Che ad oggi Occupa il primo posto Nel mercato europeo Dei giochi online E ha una quota Del 22% Nel mercato globale Ma ancora più grave Forse Che mentre fino a poco tempo fa La clientela Degli scommettitori Era abbastanza circoscritta Oggi è molto più variegata Infatti Oltre ai giovani Sono in crescita Anche gli anziani Scommettitori Che tentano La via della fortuna Attraverso le scommesse Sportive O altri giochi Sotto il monopolio Dello Stato Il forum dei giovani Di Sala Consilina Non resta indifferente All'avvicinarsi Della giornata Dedicata al ricordo Delle vittime Delle mafie Che ricorre Il 21 marzo In preparazione Di tale celebrazione Sabato prossimo 18 marzo Si terrà una giornata Ricca di eventi Che prenderà il via Alle ore 11 Presso l'auditorium Cappuccini Dal 1996 Quindi da oltre 20 anni In Italia Il 21 marzo Giorno della primavera E soprattutto Il giorno dedicato Al ricordo Delle vittime Delle mafie E Sala Consilina Si prepara A questa giornata Di memoria E sensibilizzazione Con un evento In programma Sabato prossimo 18 marzo Presso l'auditorium Cappuccini Promosso dal forum Dei giovani La celebrazione È stata ideata Dall'associazione libera Che è impegnata A sensibilizzare Soprattutto i giovani Ma tutta la popolazione Ad essere in campo Per dire basta La criminalità Organizzata Di qualsiasi natura O forma Il 21 marzo Non è stato scelto A caso L'associazione Scelse il primo giorno Di primavera Perché rappresenta Il risveglio Della natura Dopo il lungo inverno Quindi si spera Che il 21 marzo Sia anche il giorno Di risveglio Delle coscienze Della volontà Da parte di tutti Di opporsi Alle mafie In Italia Una giornata Però Che è anche Soprattutto ricordo Delle numerose vittime Innocenti Della malavita Organizzata Si spera quindi Che possa diventare La primavera Del trionfo Della verità E della giustizia sociale Importante e significativo L'evento Che il gruppo Del forum Dei giovani Di Sala Consilina Preseduto Da Rosaria Romanelli Ha organizzato Per sabato prossimo Grazie alla collaborazione Del comune Di Sala Consilina E il supporto Del quotidiano Libero pensiero Dell'associazione Reboot Vallo di Diano L'evento Denominato Verso il 21 marzo Giornata di sensibilizzazione E riflessione Sul tema Della criminalità Organizzata Prenderà il via Nella mattinata Alle ore 11 Per poi proseguire Con eventi Anche nel pomeriggio I ragazzi Del forum Dei giovani Di Sala Consilina Hanno voluto Dedicare un'intera giornata Al tema Dimostrando una grande Sensibilità Sulla problematica E magari sperando Di riuscire A sensibilizzare Sul tema Anche l'intera comunità A dare il via Alle attività In programma Presso l'auditorium Cappuccini Di Sala Consilina Il sindaco Francesco Cavallone E il consigliere Delegato alle politiche Giovanili Elena Gallo Per i saluti istituzionali A seguire Entrerà nel vivo L'evento Con un dibattito Sul tema L'impegno sociale Che vince la mafia Alla presenza Di Riccardo Cristian Falcone Esponente del coordinamento Provinciale Dell'Associazione Libera E Giuseppe Abruzzese Referente per il Vallo di Diano Dell'Associazione Nel pomeriggio Nuovo appuntamento Con un Cire Forum E la proiezione Del film Fortapash La lettura Di scritti Delle vittime Innocenti Delle mafie E momenti musicali Un'audevole Iniziativa Dei giovani Del forum Di Sala Consilina Che dimostrano Così La loro attenzione E sensibilità Verso la giustizia E contro L'illegalità Diffusa Un profondo Segno di maturità Che si spera Possa essere Di insegnamento Per tutti Non si ferma La battaglia Contro l'impianto Di biometano A Sant'Arsenio Il Comitato No Biometano Il Parco Nazionale Del Cilento Vallo di Diano Alburni E la Comunità Montana Vallo di Diano Hanno inviato La Regione Campania Le osservazioni Per la verifica Della soggettibilità Alla valutazione Di impatto ambientale Dell'impianto La battaglia Contro la realizzazione Dell'impianto Di biometano A Sant'Arsenio Va avanti Sono state presentate Infatti Alla Regione Campania Le osservazioni Per la verifica Della soggettibilità Alla valutazione Di impatto ambientale Dell'impianto In questione Le osservazioni Sono state inviate Dal Comitato No Biometano Con la consulenza Scientifica Del professor Vincenzo Belgiorno Ordinario Di Ingegneria Sanitaria Ambientale Dell'Università Degli Studi Di Salerno Secondo cui È evidente Che per le caratteristiche Del territorio Dell'impianto Il sito Di localizzazione È inidoneo Alla realizzazione Di un impianto Di trattamento Dei rifiuti organici Tale condizione Di inadeguatezza È palese In considerazione Che il cimitero Ricade a meno Di 200 metri Dall'impianto Il Parco Nazionale Del Cilento Vallodidiano E degli Alburni Si è unito Alla battaglia Essendo l'area Individuata Per la costruzione Dell'impianto Contigua Ad un'area Naturale Protetta Di rilievo Nazionale Caratterizzata Dall'alta presenza Di biodiversità È fondamentale Non soltanto Per i valori naturali Storici E paesaggistici Ivi conservati Ma anche Per la produzione Di beni E servizi Ecosistemici L'ente Quindi ritiene Che allocare Il siffatto Impianto Nelle sue vicinanze Rappresenta Una minaccia A tali beni E servizi E anche La comunità Montana Vallodidiano È inviato La delibera Dell'aggiunta Comunitaria E le delibere Di tutti i comuni Del comprensorio Con le quali Si dice no A questo impianto Che prevede Il trattamento Di 60.000 tonnellate Di rifiuti Di natura organica Una quantità Di gran lunga Superiore A quanto producono In tale settore I comuni Del Vallodidiano Tale opera Dicono Dalla comunità Montana È anche Detenuta Incompatibile Con la programmazione Avviata Nel comprensorio Del Vallodidiano Sia da un punto Di vista ambientale Che sociale Che economico Nei giorni scorsi Poi Il comitato Nobiometano Attraverso il presidente Anna Maria Rizzo Ha esposto Il caso di Sant'Arsenio Al convegno Il futuro del biogas Nella regione Campania Svoltosi sul treno verde Di lega ambiente A Salerno Tra i presenti Vi era l'ex assessore Del comune di Salerno Gerardo Calabrese Attuale presidente Del consorzio Per la gestione Dei servizi di Salerno Che si occupa Tra le altre cose Di una serie di servizi In ambito ambientale Calabrese Dopo aver ascoltato La presidente del comitato Anna Maria Rizzo Essendo a conoscenza Del leader amministrativo E legale Legato alla vicenda Biometano a Sant'Arsenio Ha chiaramente definito Inidoneo Il sito scelto Per la costruzione Dell'impianto Rimarcando allo stesso tempo La necessità Che il Vallo di Diano Si doti di un impianto Di compostaggio Comprensoriale Proporzionato Alle esigenze Del territorio Sabato prossimo 18 marzo Alle ore 16.30 Sarà proiettato Presso la Sala Cultura Della Banca Montepruno A Sant'Arsenio Il film Iners Obiettivo dell'evento E la valorizzazione Delle tematiche Legate all'immigrazione Italiana Collegandole Alle dinamiche Che il nostro paese Sta vivendo ora In tema di immigrazione Il film Miner Con Valeria Vaiano E Franco Nero Per la regia Di Fulvio Vez Sarà proiettato Presso la Sala Cultura Della Banca Montepruno Sabato prossimo 18 marzo Alle ore 16.30 Racconta la storia Della massiccia Immigrazione Negli anni 50 Dall'Italia Ed in particolare Dalla Lucania Verso le miniere Del Belgio L'evento di sabato Organizzato Dalla Banca Montepruno E dal circolo Banca Montepruno In collaborazione Con l'associazione Mezzogiorno Futuro Nasce per focalizzare L'attenzione Sul tema Dell'immigrazione Degli italiani All'estero Cercando di collegare Gli aspetti Di quel flusso Migratorio Con le dinamiche Relative a ciò Che sta accadendo In Italia In questo particolare Momento storico A proposito Di immigrazione La manifestazione Vuole per l'appunto Valorizzare Le tematiche Legate all'immigrazione Italiana Con specifico Riferimento A quella del sud Italia L'incontro Si aprirà Con i saluti Di Aldo Rescinito Presidente del circolo Banca Montepruno A seguire Interverranno Mezzogiorno Futuro E Valeria Vaiano Attrice Sceneggiatrice Responsabile Scientifica Dell'Associazione Mezzogiorno Futuro Le conclusioni Saranno affidate A Michele Albanese Direttore generale Della Banca Montepruno La presentazione Sarà coordinata Da Antonio Mastrandrea Responsabile Comunicazione Della Banca Un bellissimo Mosaico cinematografico Ha affermato Il direttore generale Michele Albanese Che ci immerge In un'atmosfera Romantica e positiva Ma soprattutto Che mette in mostra Quell'Italia Che con coraggio Spirito di gruppo E positività Riesce sempre Ad affrontare Le traversie della vita Il ricordo Delle vite Dei minatori Come quelli di Marsinello Offre una visione Degli italiani E dei lucani Avvincente E positiva Che ci inorgoglisce I nostri connazionali All'estero Hanno sempre dimostrato Di avere grandi valori Di essere umili E hanno fatto del lavoro Una vera ragione di vita Facendosi dispettare E conquistando Anche grandi risultati Bisogna sottolineare Questi aspetti Perché ci consentono Di comprendere meglio Il senso dell'emigrazione È un periodo Molto particolare Della nostra storia Dove ci troviamo I nostri territori Diverse persone Che provengono dall'estero E l'appuntamento di sabato Vuole proprio puntare L'attenzione su questi temi È fondamentale Quindi far conoscere Il passato Anche ai giovani Per meglio affrontare Il presente E adesso ci fermiamo Per qualche minuto Di pubblicità Bentornati in studio Per la seconda parte Del nostro telegiornale Sabato scorso C'è stato Un nuovo appuntamento Culturale Che ha coinvolto I soci del circolo Carlo Alberto 1886 Preseduto da Felice Tierno Presso la sede sociale C'è stata la presentazione Del libro Scritto da Lorenzo Peluso A Salamo Ad arricchire la serata La testimonianza Di un militare Curdo Serata particolarmente interessante Per i soci del circolo sociale Carlo Alberto 1886 Sabato scorso In occasione Della presentazione Del libro scritto Da Lorenzo Peluso A Salamo Aleykum Opera che raccoglie Testimonianze E racconti Dell'esperienza Vissuta dall'autore In occasione Dei suoi viaggi Come giornalista Embedded A seguito Dell'esercito italiano Impegnato Nelle diverse operazioni Di pace Nei paesi Immartoriati dalla guerra Paesi come Kosovo Afghanistan Libano E Iraq Che sono spesso raccontati Per i loro scenari di guerra Ma che sabato scorso Grazie all'evento Organizzato dal circolo Preseduto da Felice Tierno È stato possibile Conoscere anche Da un altro punto di vista Un punto di vista Che si avvicina di molto Alla nostra realtà Di mondo semplice Dove si lavora Si gioca Si sogna Si spera Si guarda al futuro E ci si innamora Per i soci del circolo Carlo Alberto Quindi ancora un appuntamento Di grande spessore E culturale Che grazie ai brevi interventi Dei relatori Presenti al tavolo Moderato da Giuseppe D'Amico Ha permesso di aprire Una finestra ampia E dettagliata Su quella parte del mondo Che è troppo spesso Interessata da conflitti bellici E dove i nostri militari Sono impegnati Nelle azioni di pace Ma anche per addestrare Il popolo Dopo i saluti Del presidente del circolo Felice Tierno Che ha elogiato L'autore del libro Per il suo impegno A fianco delle truppe italiane Spiegando il significato Del termine embedded Cioè incastrato Quindi come il giornalista In tali esperienze Debba necessariamente Essere in grado Di ben incastrarsi Con l'esercito Inviato sui luoghi Ha elogiato Il lavoro di Peluso Capace di raccontare Anche le emozioni Che si vivono Sui luoghi di guerra La serata culturale È stata ulteriormente Arricchita Dall'intervento Del moderatore Giuseppe D'Amico Che ha parlato Dei primi giornalisti Inviati di guerra Del Vallo di Diano E dal tenente Colonnello Dell'ottavo reggimento Artiglieria Pasubio A Persano Giovanni Graziano Ma gli interventi Che più hanno colpito La folta platea Presente Presso la sede Del circolo Sono stati quelli Di Friat Badani Militare Peshmerga Che ha sposato L'architetto Tiziana Crusco Una donna Di Sapri In particolare Friat Badani Realizzando l'italiano Seppur non proprio perfetto I membri del circolo Che lo hanno invitato A partecipare Per parlare Del suo paese E sulle tematiche Sociali e politiche Che sta vivendo Sentire il nome Del mio paese Il Kurdistan Ha spiegato Friat È stata una vera emozione Spero che un giorno Ha proseguito Tutti possano conoscere La verità reale Del nostro territorio Anche le conclusioni Affidate al giornalista Autore del libro Lorenzo Peluso Si sono rivelate Particolarmente interessanti Per i soci del circolo Il comune di Sala Consilina Aderisce al progetto Del CONI Campania Sport in Comune 2017 Scopriamo nel prossimo servizio Di cosa si tratta E come partecipare Il comitato regionale Del CONI In collaborazione Con le delegazioni Provinciali Del CONI Della Campania In intesa Con l'ANCI Il comitato Paralimpico italiano I rappresentanti Provinciali Delle federazioni Discipline associate Enti di promozione Sportiva Associazioni Benemerite Ha indetto e organizzato La prima edizione Del progetto sperimentale Sport in Comune 2017 All'evento Aderiscono i comuni italiani Che formeranno Delle rappresentative Di giovani Nati negli anni 2005, 2006 e 2007 Che prenderanno parte Alle gare di calcio Ciclismo Ginnastica ritmica Judo Palacanestro E pallavolo Alla manifestazione Ha aderito anche Il comune di Sala Consilina Che con apposito avviso Ha reso noto Che possono partecipare Tutti i ragazzi Nati o residenti Nel comune Previa presentazione Delle domande Di partecipazione Il cui modulo È scaricabile Dal sito istituzionale Del comune La domanda di partecipazione Sottoscritta Dalla genitore esercitante La patria potestà Dovrà essere presentata Entro il prossimo 31 marzo Ogni ragazzo Potrà partecipare Ad un massimo Di due discipline sportive E dovrà presentare Due distinti moduli Ciascuno Per ogni disciplina Come ricorda l'avviso Tutti i ragazzi In età sopraindicata Possono partecipare Alla manifestazione Tesserati o non E passiamo ora Allo sport Alla prima categoria Pareggio interno Della Gregoriana Il Real Palomonte Si porta a meno 5 Ma in due partite Può raggiungere La capolista Resta quarto Il Sassano Chi pensava Che dopo il successo Nello scontro diretto Il campionato Di prima categoria Gironi G Fosse concluso A vantaggio Della Gregoriana Ora deve ricredersi La formazione Di mister Menza Ha raccolto 5 punti Nelle ultime quattro partite A far scalpore Suscitare qualche mugugno Sulle direzioni arbitrali Sono state soprattutto Le sfide interne Contro Paltano E ultimo Domenica scorsa Contro l'Acquavella Che hanno permesso Al Real Palomonte Di farsi minaccioso La formazione Di Luca Di Mieri Che ha battuto Sabato pomeriggio 3 a 0 Il Certosa di Padula Ora si trova A meno 5 punti Della vetta E in caso di vittoria Nel recupero Di domani In casa dell'Arofrano Si porterebbe A meno 2 Dalla cima Della classifica Un qualcosa Di inatteso Almeno un mese fa In casa Gregoriana Invece È tempo Di compattarsi E cercare Di non perdere La testa Per portare a termine Il grande lavoro Svolto E lo strepitoso Campionato fatto Fino ad oggi Per quanto riguarda Le altre gare Del weekend Trascorso Il Cicerale Non perdona E con 5 a 0 Sull'Affanese Resta al terzo posto Con un vantaggio Di 3 punti Sul Sassano La formazione Del presidente Ricerdone Batte 3 a 0 La nuova San Vito Sapri E continua La sua rincorsa Infine va male All'altra valdianese La pollese Che esce sconfitta All'inglese Dalla trasferta Sul campo Delle Ryan Passiamo ora al futsal Vittoria casalinga Per la cagianese Che riaccende Le speranze Di salvezza In serie D K.O. esterno Per il Pertosa Che manda In frantumi Il sogno Promozione Weekend scorso Decisivo Quasi Per il futuro Delle squadre Valdianese Impegnate Nei campionati Di futsal Nel campionato Di C2 Girone C La cagianese Era chiamata Alla vittoria Nel match casalingo Contro il Fima S Sporting Club E vittoria è stata Per Carucci e compagni Che sotto di due gol Riescono a rimontare E portare a casa I tre punti Il finale 6 a 3 Per la formazione Granata Che ha in Ciro Marcilliano L'eroe di giornata Con quattro gol Messi a San Eferto Un pocket Che secondo le statistiche Consente al giocatore Di raggiungere Quota 100 marcature Nelle ultime tre stagioni Con questo successo La cagianese Sala a quota 17 punti E raggiunge Fima Sporting Club E Lupe Pompei Poco sopra Distanziate di uno E due punti Rispettivamente Ci sono Montella E Regina Minor Nel campionato Di serie Di Girone F Svanisce Con la sconfitta 10 a 4 In casa Dell'Albanella Il sogno Il sogno promozione Dell'AS Di Pertosa Che ora è a meno 9 della vetta Occupata dal Belvedere Che nel weekend Ha battuto 6 a 3 L'Atletico Eolevoli Si spartiscono La posta in pario E futsalisdea Polla E Sporting San Pietro Nel derby Partita che termina 4 a 4 Infine vittoria esterna Per il dolce vita Corsaro In casa Dello Spartans Salerno Sous-titrage Société Radio-Canada